Ciao a tutti ragazzi, sono Enrico12222 ed eccoci qua con un nuovissimo video su Earth of Iron 3 Allora, prima di iniziare il video avrei un annuncio da fare Ho notato e ne sono stato molto contento ovviamente che nel video precedente e anche in quelli ancora prima Ci sono stati numerosi commenti, a me la cosa fa molto piacere perché apprezzo molto i consigli E ho anche notato che nelle ultime due settimane gli iscritti sono passati da 60 a 82 Allora ho cominciato a pensare che sia davvero possibile arrivare ad averne 100 Quindi pensavo a qualcosa da fare appena ne raggiungerò 100 e mi era venuto in mente di fare questa cosa Io potrei prima di tutto su Earth of Iron, poi magari anche sulle altre campagne che facciamo più avanti Diciamo, al termine di ogni video rilascio in descrizione praticamente un link Che consentirà il download del salvataggio di dove sono arrivato in quella parte della campagna Così molti di voi, dato che avete molte idee diverse, potrete anche rifarvela come vi pare Continuandola magari da qui, quindi saltando le conquiste iniziali avendo già un vasto territorio A partire dall'anno 1939 che comunque siamo già al primo gennaio quindi presto inizierà la guerra Cioè volevo attaccare subito Malta però mi sono fatto convincere da molti commenti Ci sono stati veramente un sacco di commenti e la sintesi che mi sono fatto mettendo insieme quelli che secondo me erano i migliori E' stata che praticamente noi aspettiamo il blitzkirk in Polonia E poi contemporaneamente a quello noi facciamo il nostro blitzkirk qua in Egitto Poi l'Etiopia, allora nell'Etiopia sicuramente non la voglio abbandonare totalmente E io farei una cosa Allora io credo che Ah qua è anche territorio francese quindi qua abbiamo proprio tutto contro Non so, ciò che intendevo fare io era magari Qui Ed ce lo teniamo, questo qui ci rimane questa di presidio e lo tiene Poi la cosa che stavo pensando io, le altre armate magari A parte qualcuna comunque qui che può rimanere, le altre Possono essere spostate verso nord per dare una mano alla conquista dell'Egitto Che sarà fondamentale per il nostro progetto di scacciare gli inglesi dal Mediterraneo Quindi avevo visto un commento che consigliava anche la conquista della Spagna Intanto andiamo un po' avanti così arriviamo più vicini al 39 Che c'è allo scoppio della guerra C'era un commento che consigliava la conquista della Spagna Infatti c'è la farsi la Spagna alleata Il problema è che mi sa che ha vinto Vediamo, ok, efficacia Continua a fare l'efficacia dell'Ec Diamo un attimo un'occhiata Alla diplomazia Facciamo Europa Vediamo un po' la nostra Spagna Eh, però è il problema che ha vinto la Spagna repubblicana e non quella nazionale Quindi va verso gli alleati E comunque, cioè Qualcuno diceva di fare la Spagna alleata Cioè, alleata a noi E però qualcun altro aveva commentato il fatto che Poi gli inglesi sarebbero potuti facilmente sbarcare qui in Spagna Però Magari, secondo me, sarebbe meglio Non farla entrare proprio negli alleati Se no è come se gli inglesi fossero già sbarcati E l'avessero tutta conquistata E la Spagna alleata Ancora in Africa pure quella Potrebbe dare qualche piccolo problema Quindi io non so Lo metterai come nazione prioritaria Da spingere verso l'asse Perché potrebbero esserci dei piccoli problemi Infatti E quindi Ecco, il Portogallo intanto è nell'asse Perfetto Ah, quindi Questa è stata la Germania Non c'entro niente Comunque gli inglesi possono sbarcare anche da qui Quindi non so A questo punto Conviene Ai ribelli Sapevo Andiamo qua Allora, a questo punto conviene, secondo me Magari farsi Anche la Spagna Cercare di farla entrare nell'asse Perché se entra negli alleati Ha un esercito direi abbastanza Ampio E quindi potremo avere problemi Allora darei un'occhiata un attimo qui Farei influenza nazione Ovviamente non abbiamo la possibilità per influenzarla Però Ci servirebbe quattro E noi abbiamo due E non so Potremmo togliere momentaneamente qualcosa alla ricerca Perché ci serve però Ah no, ok, perfetto Si è abbassata da sola Abbiamo ricercato la ricerca nucleare Abbiamo già terminata Proprio appunto perché non ne avevamo La possibilità Dov'era ricerca nucleare Ah, l'abbiamo finita In industria Quindi adesso passiamo alla separazione degli isotopi Così andremo a fare qualche missile strategico Cose così dai Che fanno sempre bene E quindi Il Portogallo vediamo che in Africa ci potrà dare una mano Anche se ho paura che venga schiacciato Anche perché i suoi possedimenti sono questi E non possiede unità A parte qualcosina qui Quindi Anche loro sono messi abbastanza male Allora intanto continuiamo E quindi Ok, abbiamo terminato l'influenza diplomatica sulla Romania Io vorrei dare un'occhiata a Romania Che adesso però riprende andare verso Vabbè, tirai molla Prima o poi ce la faremo E adesso sarei Dato che la Spagna Repubblicana è più vicina lì Comunque anche più vicina al Cominter Che a noi Ah, ci si vogliono Non abbiamo proprio i punti di influenza diplomatica Adesso prendiamo 0,99 al giorno Quindi Ci arriviamo ad avere tre punti Ok, influenzare nazione accetta Quindi adesso se andiamo Sulla nostra tecnologia Qui ci fa vedere che abbiamo i due necessari Per influenzare la nazione Perfetto Cioè, però lo segna lo stesso in rosso Quindi per sicurezza Per non perdere Gliene do uno in più Ok, così Siamo a posto E quindi Allora Mi è stato anche consigliato Secondo me Ho intenzione di farlo Di spostare coloro che erano destinati Alla Turchia in Africa Che sicuramente avrebbero dato una mano Quindi adesso li spostiamo Ad Atene E questi qua Noi per il momento Li lascerei di presidio Comunque anche qui sulle isole Perché ho paura che Di un attacco tipo a Creta E quindi Oppure a Rodi E le nostre navi Sono qui che girondolano Vabbè Adesso toglierle Non ne ho tanta voglia Quindi carburante Siamo comunque in positivo Quindi è lo stesso Quindi diplomazia Vediamo ora se la stiamo influenzando davvero Oppure no La Spagna Se adesso deriva Con A è verso asse Anche di molto Quindi ce la dovremmo tirare Ok Abbiamo anche ricercato i paracadutisti C'è coslovacchia negli alleati Porca miseria Caspita I tedeschi non Adesso si devono Vabbè È un problema loro Allora Che cosa era successo Già Non mi ricordo più Scarsa di cose Abbiamo un problema Di rifornimenti E qui Qui è davvero un problema Potremmo ridurre un po' di più I beni di consumo Aumentandoli ancora E Ci prendiamo nuovamente A scapito della produzione Non so che dire Abbiamo annullato completamente il resto Quindi Non saprei Magari gliene diamo Anche qualcosina in più Così si rimette bene a posto E la nostra produzione Peggiorerà ancora Non so che dire Però di finire i rifornimenti Dopo andiamo a finire Veramente male Anche se adesso Ne staremo spendendo di più Con tutte quelle navi Che girondolano Comunque Vabbè Ok Adesso la situazione Si sta rimettendo abbastanza No Per niente Vabbè In produzione industriale Ok Può continuare a migliorarla Lo fa da sola Spero Sì Ecco Così ci da un po' più di C E qualcosina da spendere in più Ce lo dovremo avere Allora Non ci sto capendo più niente Dove eravamo rimasti Produzione Qui è peggiorata Adesso siamo qui In positivo Quindi dovrebbe tornare su Sì Piano piano Sto tornando su Qui adesso in negativo Vabbè Non posso seguire il tira e molla In continuazione Vedremo poi quando ci sono problemi Ok Stavamo guardando la Spagna Che sta venendo Quindi piano piano Verso di noi E adesso Quindi stavamo compiendo Gli spostamenti Questo turno Di questo video Per andare lì Niente qui A provare a competere con gli inglesi Questa qui Ce la potremmo lasciare Una E non so Magari anche questa qui Per non farci conquistare Però da qui Oddio Un sacco di roba è spuntata fuori Ok Cannone antieri Provincia persa Ancora ribelli Greci nazionalisti In aumento Proprio i miei uomini Ci stanno passando in mezzo E vabbè Comunque adesso C'è tutta sta gente qua E che Bisogna trovare il modo Di imbarcare In qualche modo Quindi cominciamo A spostare unità E qui Ci sganciamo Tutte queste Che per il momento Abbiamo altro Da trasportare Ok Ok sono solo queste due Niente Poi di qua La sforzesca La stacchiamo E portiamo anche Questo trasporto navale Poi vediamo se ci riusciamo Con questo Quindi io come detto Prima Sposterei questo qui Quassù In modo che da qui Vada su su E anche da qui Vanno su su E poi non so Con questa gente Qui cercherei di tenere Di scacciare Gli inglesi Da questo punto qui E poi L'Etiopia Ci riconcentreremo Dopo la presa Dell'Egitto Ci riconcentreremo Anche Poi qua Iraq Con le zone lì E il resto Dell'Africa Vedremo un po' Se riusciremo A sopravvivere E poi niente Adesso Qui hanno un bel po' Di roba Adesso continuiamo Nostro turno Spostando Tutta la gente Che c'è di qua Allora Caricare Abbiamo un'intera armata Da caricare Sulle navi Vediamo che Non c'è già più spazio Però Spostiamo Tutto Per il momento Allora Vediamo che C'è un sacco Di gente In giro Questi sono Quelli che Devono partire Per Malta E quindi Le lasciamo Qui Per il momento La situazione Ok La gente È felice Perfetto Poi vediamo Qui le divisioni Carazzate Dovrebbero fare Un po' Di strage Allora Ci spostiamo Di qua Vediamo Che c'è Questa qui Che la mettiamo Già al fronte Qui E quindi Con tutte Le nostre Gente Che c'è qua Noi Sbarcheremo In questo punto Trasporto Perfetto Poi ne porteremo Altri In seguito Vediamo Finlandia In alleati Questo è Questo è un duro Colpo Vediamo Che abbiamo Praticamente Un sacco Di gente Contro Ok Abbiamo anche Due divisioni Motorizzate Non credevo Saremmo mai riusciti A produrle Invece Così è stato Che strano E comunque Ci avviciniamo Sempre di più Alla data Della dichiarazione Di guerra Ok Quindi Qui carichiamo Il resto Della gente Ok E vediamo Quanti ne mancano Ancora un po' I QG sono Soprattutto Dovrebbero essere Tutti a bordo Proviamo a vedere Comunque Trasporto E via C'è rimasto Ancora qualcuno Sì E via Ok Allora Miglioramento In corazza Del carro medio Quindi andiamo Miglioramento Anche in armamento Principale Dell'incrociatore Leggero Andiamo a dare Un'occhiata A queste tecnologie Quindi qui Passiamo All'affidabilità Poi abbiamo Armamento Principale Dell'incrociatore Che abbiamo Fatto salire Un po' Così Adesso Quindi togliamo E passiamo A migliorare L'armamento Antiaereo E quindi Siamo pronti Così Poi vediamo Le nostre divisioni Possono essere schierate Soltanto Sul continente Ecco Abbiamo fatto Finalmente Anche un altro Squadrone Da trasporto Che sarà sicuramente Molto utile Quindi Continuiamo Andare avanti Con il tempo Presto ci organizzeremo Anche perché Non manca molto Pure la Svezia Negli alleati Mi sa che i tedeschi Avranno Seri problemi Solo che al momento Non posso neanch'io Dargli i rifornimenti Abbiamo sbloccato Anche la porta aerea Di scorta Stanno finendo Adesso tutte le ricerche Tecnologiche Andiamo a dare Un'occhiata Dov'è In Ammiragliato Porta aerea di scorta Ora tecnologia Della porta aerei E così possiamo avere Anche un po' di aerei Che dopo Quando saremo Nell'Atlantico La porta aerei Sarà sicuramente Più utile Ma anche qui Non deve essere male Mentre in produzione Una porta aerei Mi viene da ridere Perché chissà Quando Di scorta Da poi Magari aspettiamo Di fare una normale Quando siamo in guerra Abbiamo più risorse Anche perché Ecco Abbiamo anche Un'altra divisione Di presidio Perfetto Speriamo che Ci lasciano il tempo Di organizzarci E non dichiarino Guerra subito Adesso Un secondo Vediamo se ce la facciamo Allora Questa divisione Qui Io direi Allora Qua c'è tutta Abbiamo quindi Questa ottava armata Completa Qui Di là Non è rimasto Niente Allora Noi della nostra Ottava armata Facciamo una bella cosa La dividiamo Una parte Sul fronte Di qua E l'altra Allora Quindi Vediamo un attimo L'altro QG Che abbiamo selezionato Ecco questo qui Si sposterà qui A Nalu Poi Andremo anche qui A Nalut A Nalut A Nalut E anche loro Vanno a Nalut Perfetto Quindi facciamo Continua Lì vediamo che i nostri nemici Hanno veramente Tanti Tanta 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 Adesso Abbiamo anche Due divisioni Motorizzate Che io Posizionerei Qui Magari mettiamo Quelle motorizzate Le mettiamo Tutte di qua Per fare Il blitz Crick Di qua E di là Andiamo Di qua Andiamo Con calma Con la fanteria Così Vanno tutti Alla stessa velocità Diciamo Più o meno Quindi la fanteria Normale La lasciamo Tutta sul fronte Francese Quindi abbiamo Il quartiere Generale Lì E questi Altri Aspettiamo Un secondo Che si Ristabiliscano Bene le cose In ordine Ho paura Che la Germana Dichiari Guerra Prima del Tempo Stabilito Quindi sto Facendo Tutto Abbastanza In fretta Qui Dottrina Offensiva Sarà Senz'altro Utile E qua Questo Che ha Bisogno Di meno Rifornimenti Direi Che va Bene Niente Non possiamo Trasportarli Però tutti Subito Anche Perché Davvero Un bel Po Di Gente Quindi Facciamo Trasporto E poi In seguito Faremo Anche Gli Altri Tanto Poi Avremo Un'altra Presidio Da inserire Qui c'è rimasto Solo il comando Della sesta armata Dissiamo che Di presidio Ce ne sono Abbastanza Ecco qua Abbiamo il nostro Corpo d'armata Celere Che ci sarebbe Senz'altro Utile Se lo riuscissimo A spostare Totalmente In Africa Prima dell'inizio Della guerra In modo Che Di avere Ulteriori Truppe Su quell'altro Fronte Anche se Mi sento Così Un po' Sguarnito In Grecia Però Non dovremmo Subire pesanti Attacchi Da questa Parte Dunque Gli uomini Qui rimarranno Presidio Direi sul Continente Qua sulle isole E ad Atene Un po' Di gente Tipo questi Qui che resteranno In questa zona Quindi Io la Cagliari La metterei Qui Da dove ho Ho dovuto Togliere Quello E gli diamo Un comandante Così A caso E quindi Ci prepariamo Poi Aspettiamo Che si sposti Questo comando Che va più piano Così Riusciamo a capire Meglio Perfetto Anche quello Si spostato Ok Ci fermiamo Un secondo Allora Io direi Che Anche con Questa divisione Ci possiamo Spostare Magari Qua Fia sud Deserto E ovviamente Si potrebbe Unire anche Questa All'ottava Armata In modo Da Tenere tutti Gli uomini Impiegati Di qua Che poi Signirà Lì A questo Qua Che è il Quartier Generale In Africa Quindi Terrà queste Armate Qui Tutto il Proprio Controllo Ecco Vediamo Che qui Cominciano Ad arrivare Le motorizzate C'è il Nostro Sommergibile Allora Quindi Carichiamo Anche l'altra E la Trasportiamo Quindi Spostiamo Le nostre Divisione Motorizzate Diciamo Questa Un po' Più a sud Ancora Questa È sempre Collegata Qui Si E Infante Quello Che c'è lì Lo lasceremo Qui a difendere Ok andiamo avanti Vediamo C'è rimasto Solo lo squadrone Qui Che lo chiameremo Solo quando è utile Per non perderlo Prima del tempo Magari se Abbiamo eventuali perdite Lo useremo per rimpiazzare Dato che al momento Ne abbiamo comunque A sufficienza Anche qui Magari si può fornire Un generale Così giusto che Dato che adesso Avranno meno aiuti Anche se Generali A livello zero Però Sempre meglio Dargli qualcuno Che li comanda Vabbè qui all'uno Perché quello dei carri Non lo voglio usare Qui E Così poi Adesso riempiremo I buchi Piano piano Con la produzione Di altre Divisioni Del genere Ok Diciamo che ormai Siamo prossimi All'entrata in guerra Aprile del 39 Siamo E Possiamo procedere Con l'avanzata Del tempo Anche se sarà Una campagna Abbastanza difficile Mi scuso per la noiosità Che potrebbe esserci In questi primi capitoli Ma Direi che dal prossimo Ci sarà guerra di continuo Solo Vediamo che anche Svezia e Finlandia Sono entrati in alleati Quindi per la Germania Sarà davvero Una cosa molto dura Spero che non venga Annientata E poi scendano Da nord Verso di noi Perché sarebbe Veramente Forse un disastro Spero che riescano Anche a conquistare La Francia I tedeschi Perché ho visto che La situazione Si è messa Veramente male Per loro Ok Qui siamo Pronti Qua ci stiamo Ancora preparando Qui creiamo Un comando Per le motorizzate Chissà che fine Ha fatto Vediamo qua Non è che abbiamo Vabbè Non è che ci siano Proprio dei gran comandanti Però Questo qua Ci metterà Penso fino al 40 Per arrivare qua E quindi Boh Dov'è Com'è che si chiama Sesto No Un nome Quinto corpo Un quinto QG corpo Ci leghiamo Al quinto QG corpo Il problema è che Il problema è che Il QG Per le motorizzate Saranno talmente lenti Che Andremo avanti E resteranno un po' indietro Credo Ok Quindi siamo pronti Per la nostra Terribile avanzata Temibile avanzata Il amico Ci deve tenere Temere La Svizzera Negli alleati No però Perché Ah Mi sa che sarà Davvero una campagna Molto difficile Quindi Acqua con la Svizzera Svizzera è un problema Se entra negli alleati Che è già vicinissima a farlo Boh Adesso vedremo Comunque Tornando a noi Di qua Vediamo che L'accelere È quasi riunita E pronta Per essere mandata Creerei magari Anche un corpo Un'armata Per questa zona qui Quindi Starebbe qua La nostra prima armata Con Adalberto Duca di Bergamo Meglio di così Dov'è però Eccola Che la colleghiamo Appunto Adesso A Tarbulus Quindi anche questo Verrà spostato A sud Devo controllare Devo controllare Romania e Turchia Scusate Per fare il punto Della situazione Ok 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 va bene Va bene Va bene Perfetto Non ci sono problemi Per il momento Quindi Scorriamo un altro po' Con il tempo Quindi Proviamo a imbarcare Anche l'accelere Una alla volta Vabbè Danimarca si sta mobilitando Wow Allora Qui non so Qualcosa Bisogna lasciare Comunque qui Perché Liberia Manda la gente Su Perché se Vorrei capire Se hanno davvero Tanta Così tanta gente Lì francesi Perché Boh Allora Quindi diamo Un'ultima Occhiata Tutto Abbastanza Bene Sì Adesso Attenderemo La dichiarazione Di guerra Finendo Di fare Gli ultimi Preparativi Trasporto Ormai Mi sono rassegnato A fare Uno alla volta Cosa combina La Germania Cosa fa Non sarà Ah È iniziata È iniziata L'invasione Della Polonia Non ci han detto Niente Però è iniziata L'invasione Della Polonia La guerra Ancora no Però è iniziata L'invasione Della Polonia E quindi Non so Quanto mancherà Che l'Inghilterra Si arrabbi Noi comunque Ci teniamo pronti Ci serve gente Qui subito Il comando Dell'accelere Lo sposteremo Magari Con questa Qui nuova Allora La lasciamo Lì E poi La usiamo Per spostare Il comando Dell'accelere Perché queste Ci servono Qua Per fare Lo sbarco Quindi Siamo soggetti A embargo Commerciale Da Polonia Che paura Vediamo Allora Di imbarcare Tutti A bordo Delle nostre Simpatiche Navi Che non ne abbiamo Abbastanza No si Un altro Ci stava Questo ci sta Mancava Una divisione Corazzata Che per il momento Non ci sta Allora L'accelere Poi La disporremo Qui in basso E il Coso Cei Sarà collegato Alla prima Armata Di Toburk Di Tobruk E qui siamo pronti Adesso qui abbiamo Anche la nostra Superflotta Di Ghe E io direi Che ci siamo Quasi Manca Veramente Poco Spero che il video Vi sia piaciuto Si conclude qui Se vi è piaciuto Lasciate un bel Mi piace Magari iscrivetevi Ciao a tutti Ad un prossimo video Ciao a tutti